La pellicola cilentana, diretta da Gianni Petrizzo e sceneggiata da Giovanni Laurito, continua a fare incetta di premi internazionali, con la vittoria del premio come miglior film straniero ai premios Sioriana, battendo la concorrenza di Stati Uniti, Argentina, Messico e Turchia. Nel mese di agosto, al Venus Italian International Film Festival, il film era stato premiato come miglior film, mentre al regista Gianni Petrizzo era andata la statuetta per la miglior regia. Inoltre, il lungometraggio è stato anche proiettato a New York, alla San Cono Society. Mentre lo scorso mese di settembre, la pellicola ha ottenuto la menzione d'onore al Berlin Flash Film Festival. Il film, prodotto da Film Studio, è stato realizzato interamente nel Cilento, precisamente a Canna Longa, e ha come attori protagonisti Antonio Vita, Antonio Tomeo, Bartolo De Vita, Daniele Sottolano, Antonino Onese e con la partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi. È ambientato negli anni 50 e parla di un giovane maestro salernitano a cui viene assegnato un impiego in una scuola di montagna a Canna Longa. Si può parlare di impresa per una piccola produzione indipendente che ha riscosso tanto successo a livello internazionale e che è fonte d'orgoglio per il Cilento e per il paese di Canna Longa.